Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Siccità, la Regione Marchi ha presentato al Governo la dichiarazione di stato di emergenza Alla scoperta dei tesori nascosti sotto la corte malatestiana, il Centro Studi Vitruviano annuncia un'analisi con il georadar Cominciano questa sera i campionati del mondo di ginnastica e ritmica a Pesaro C'è grande attesa per le prove delle farfalle azzurre Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Cordiale saluto, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Che comincia questa sera con la Regione Marchi che ha chiesto, ha presentato al Governo La richiesta di dichiarazione di stato di emergenza per la siccità che sta colpendo il territorio Ne dà notizia l'assessore alla protezione civile Angelo Sciapichetti Abbiamo chiesto lo stato di emergenza, spiega, per far fronte alla situazione che si sta verificando In conseguenza delle condizioni climatiche degli ultimi mesi Nelle Marche nell'autunno 2016, nella scorsa primavera, ha piovuto poco A ciò si sono aggiunte elevate temperature estive e questo ha portato ad una situazione difficile Prima nel Pesarese, poi nell'Ascolano, nel Fermano e nel Maceratese La richiesta, formulata dopo le segnalazioni delle autorità di ambito, è corredata da tutta la documentazione necessaria Anche in relazione alle misure di contrasto adottate La Regione ha anche quantificato dettagliatamente le risorse economiche necessarie al superamento delle criticità Il caldo e la siccità di quest'estate rischiano anche di provocare nei prossimi mesi perturbazioni devastanti Perché la forte evaporazione del mare aumenta la quantità di vapore acqueo nell'atmosfera E le forti piogge non saranno neppure assorbite dal terreno, reso impermeabile dal sole coccente Aumentando così le inondazioni Ed è questo l'allarme che ha lanciato in una nota oggi pomeriggio il sito meteo.it Che cosa c'è sotto la corte malatestiana di Fano? Forse lo scopriremo presto perché sono iniziati i lavori per capire con un georadar appunto che cosa c'è sotto il sottosuolo Fano sotterranea, un bel viaggio alla scoperta delle radici della città della fortuna Dal sottosuolo emergono sempre le testimonianze dell'epoca romana e gli affascinanti resti medievali Investigare il passato attraverso il presente per restituire al luogo la sua identità Ha sempre affascinato studiosi e storici Ed in una città come Fano che come altre del centro Italia Sotto la superficie calpestabile ha un'altrettanto estesa dimensione Come una città che si guarda allo specchio viene molto facile Stamane nella culla del medioevo fanese la corte malatestiana Alla presenza dell'assessore Marchegiani il centro studi Vitruviani In collaborazione con il Politecnico delle Marche Ha finanziato in totale autonomia di spesa una radiografia del sottosuolo Attraverso l'utilizzo del georadar Per capire cosa ci sia sotto e se ciò che c'è sia di rilevanza storica Tale da giustificare eventualmente poi uno scavo vero e proprio Un esercizio di ricerca che il centro studi Vitruviano Ha intrapreso da tempo ed in altri siti storici della città La corte che poi è strettamente legata a corte malatestiana È strettamente legata alla piazza Noi già sappiamo che sotto questo livello di calpestio ci sono resti di domus Che sono già state trovate, rilevate, georeferenziate E ora vediamo che cosa succede in questo spazio libero Che a noi risulta essere sempre stato storicamente libero Quindi questo depone a favore del mantenimento di preesistenze E speriamo rilevanti da un punto di vista archeologico Un'opportunità ghiotta questa per l'amministrazione comunale E che di questo complesso vorrebbe farne il polo museale della città Magari estendendosi a Palazzo De Cupis Ma prima di far questo bisogna mappare gli edifici E poi passare alla fase progettuale vera e propria Ma soprattutto sapere vita, morte e miracoli del luogo e dei suoi edifici E di ciò che si vede e non si vede Vista anche la palesata disponibilità della sovrintendenza A stanziare eventualmente fondi per possibili scavi mirati E vediamo cosa c'è nel sottosuolo Perché questo sarebbe comunque obbligatorio Non solo per la Corte Manatestiana Anche per i limitrofi, i giardini e leopardi E una strisciata sulla piazza Che anche lei contiene un fascino Perché è una piazza a cava Al di sotto della pavimentazione che siamo abituati a percorrere Con archi e volte, mai particolarmente indagati Perché ci interesserebbe comprendere anche la natura di quelle sottostrutture Se sono medievali o romane Ed ora le vostre segnalazioni ci portano all'interno del cimitero urbano di Fano Dove la presenza di alcune biciclette Hanno fatto gridare all'indignazione più di una persona Un cimitero è un luogo di raccoglimento Di preghiera, di saluto ai propri cari defunti Un luogo frequentato giornalmente da centinaia di persone Che non aspettano certo novembre Per commemorare il ricordo dei propri parenti scomparsi È un luogo dove oltre alle persone Entrano le emozioni, i sentimenti, i ricordi Ognuno dei visitatori porta con sé un bagaglio di sensazioni Ma alcune persone, oltre a ciò, portano anche qualcos'altro Che non dovrebbe entrare in un cimitero Una bicicletta Sì, avete capito bene In bici sino alla tomba del defunto Salvo poi metterla in un angolino Per sbrigare la pratica floreale Per poi rinforcarla e tornare a casa Un indignato cittadino Frequentatore assiduo del cimitero centrale Pensiamo a noi Ci ha segnalato e documentato fotograficamente Questa indecorosa, come la definisce lui stesso Abitudine di alcuni Magari, abbiamo pensato noi Non ci sono posti dove lasciarla la bicicletta E così siamo andati a controllare Ma all'esterno dell'entrata del cimitero Le rastragliere ci sono Come anche le due ruote Tra una cappella ed un'altra E anche lungo il muro di cinta C'è spazio dove parcheggiare la bicicletta E quindi spazio se ne trova Pigrizia, menefreghismo delle regole Non curanza Quali che siano le motivazioni Di chi ha questa abitudine Ci sentiamo concordi Con il segnalatore Sull'indecoroso E speriamo che nel cimitero centrale D'ora in poi Ci entrino solo persone E mazzi di fiori Da venerdì Primo settembre Apre ad Urbino Lo sportello dell'Agenzia Delle entrate riscossione Presso gli uffici dell'Agenzia A Trasanni Nel nuovo punto di consulenza Che sarà aperto ogni venerdì Dalle 8.30 alle 12.30 I contribuenti avranno a disposizione Diversi servizi In particolare potranno avere informazioni Sulla loro situazione debitoria Presentare una domanda di rateizzazione Chiedere la sospensione della riscossione Nei casi previsti dalla legge Pagare però solo con il Bancomat Avere assistenza su cartelle Avvisi di pagamento E sulla procedura di riscossione Nuovo volto per la Darsena Borghese Di Fano Che è stata completamente restaurata La terrazza della Darsena Borghese Uno dei luoghi più suggestivi di Fano Porta d'ingresso da nord della città È stata di recente Completamente rimessa a nuovo Sia nella pavimentazione Che nei parapetti Che da tempo versavano In pessime condizioni Restituendo così al luogo Il giusto decoro e risalto Che un sito di questa bellezza merita A questo ci ha pensato L'amministrazione comunale Con fondi propri Ma la sottostante facciata Dello stabile Che guarda a quello che un tempo Era il porto commerciale della città Edificato nel 1600 Di forma ovale Che arrivava fin sotto L'attuale albergo Augustus Continuava a versare in brutte condizioni Lo sterrato antistante Infestato dai ratti I fregi E gli stemmi araldici Presenti sulle facciate Gridavano aiuto Prima deposito merci Poi ricovero reti Sede di diverse associazioni Magazzino Questo suggestivo luogo Ha subito vicende Le più disparate tra loro Inizialmente era un loggiato Col piano calpestabile Ben più basso dell'attuale Ma da qualche anno È la sede naturale Vien da dire Dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Ed è proprio l'associazione Con i propri fondi Ed il contributo Di privati e piccole imprese E la manovolanza Dei suoi soci Che in due mesi e mezzo Ha riportato al suo splendore Questa parte dell'edificio E ricondizionato Sotto l'occhio vigile Della sovrintendenza Anche i suoi spazi interni Il sogno nostro È quello di riaprire Questo monumento Ai fanesi A tutti i cittadini fanesi Che possano Fare delle mostre Presentare dei libri Conferenze Quindi dare una Vivibilità Diciamo Importante A questo monumento Quindi questo è il nostro sogno Io spero che Chi ci sente Chi ci ascolta Che magari ha qualcosa Di interessante Da proporre Ci può chiamare E noi gli apriamo La sede Domenica 10 agosto Alle ore 18 Alla presenza Delle autorità civili E militari Della città L'associazione Presenterà Alla cittadinanza L'opera Portata a compimento Con orgoglio E fierezza Come nello stile Dei marinai L'Unitalsi 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 di Fano Che da sempre Impegnata Nei viaggi Attraverso Con i treni bianchi A Lourdes Ne organizza Un altro Di pellegrinaggio Un viaggio In Pullman Nella città Francese Adesso dal 25 di settembre A primo ottobre Andremo a Lourdes E abbiamo riempito Sia l'aereo Che il treno E stiamo riempendo Un Pullman Faremo questa nuova esperienza Del pellegrinaggio A Lourdes Con il Pullman Poi avremo l'incontro Alla terza domenica Di settembre A Cartoceto Quello ormai Tradizionale Con gli ammalati E lì al santuario Della Madonna Della Misericordia E In ottobre Avremo anche qui a Fano L'incontro Di tutti i giovani Delle Marche Di giovani unitalsiani Fano ospiterà Questa Diciamo Questa riunione Perché È la sottosezione Che ha tanti Tanti giovani Una buona percentuale Per cui È giusto Che diciamo Siamo noi Ad ospitare Questa Questa manifestazione L'unitalsi Lo trovate in via Della Trave Dietro la chiesina Della Trave Oppure su Facebook O su internet Basta digitare Unità Si fanno Ci sono tutti i nostri Riferimenti Questa sera A Pesaro Cominciano i campionati Del mondo Di ginnastica Ritmica È la prima volta Che l'Italia Ospita la competizione Alla quale partecipano 260 atlete Provenienti Da 54 nazioni Si comincia Con le prove Individuali Agli attrezzi Mentre Gli ultimi due giorni Di gara Saranno riservati Alle prove A squadra C'è grande attesa Anche per le farfalle Azzurre Fra le quali Oggi Sono subito In pedana La sedicenne Alexandra Argiugiuculese Già più volte Sul podio Nelle prove Di Coppa Del mondo E la quindicenne Milena Baldassarri Entrambe Con un grande futuro Largamente rinnovata La squadra Azzurra Allenata Da Emanuela Maccarini Di cui fanno parte La capitana Alessia Maurelli La veterana Martina Centofanti E le giovani Martina Sant'Andrea Anna Basta Agnese Duranti E Beatrice Tornatore E domenica invece Domenica 3 settembre Alle 8 del mattino C'è di fronte al pesce azzurro Circa 300 vespisti Provenienti da tutta Italia Si raduneranno E daranno il via All'ottava edizione Del raduno vespistico Riviera dell'Adriatico Che da 4 anni È dedicato alla memoria Di Solli Solli Deo Falcioni Membro del Vespa Club Di Fano Scomparso 4 anni fa Il giornale è finito Dopo di noi c'è Box Poi in cucina con lo chef E uno speciale Grazie per averci seguito A domani Arrivederci Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video